Una grande prova di maturità perché vincere così a Città di Castello non è cosa facile? No, infatti siamo stati molto bravi, abbiamo resistito ai loro tentativi di rimonta, comunque è stata una bella sfida perché sia in casa che qua ci hanno dato molto filo da torcere e alla fine ci siamo divertiti, ma penso che Città di Castello abbia fatto veramente bene. Avete messo in difficoltà fin dal servizio? Sì, per fortuna il servizio ci ha aiutato, qua non era semplice battere però per fortuna Simono e Movettori sono riusciti a mettere in difficoltà quindi per noi è stato un pochino più semplice. Piacenza c'è e vuole arrivare fino in fondo? Beh ovvio, noi vogliamo cercare di arrivare fino in fondo, vediamo che ci capita, magari dobbiamo tornare qua in zona probabilmente. Per te che sei della provincia di Arezzo insomma sarebbe un ritorno a casa? Meglio, un po' più di tifo per noi almeno.